Oi, finalmente è finito l'after della Tecno al palazzo dei congressi, torno a casa Perché l'after al palazzo della Tecno mi ha stressato alla grande Eh sì, no, infatti mi sa che vado a casa e mi metto a fare un gameplay con questo qua che sta per comparire dietro Bello ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Game Prank Ogni gol, un prank Sei pronto? Sono pronto Inizia Cosa fai? Scusa, c'ho l'ebola Pesantezza! Oh! Abriccio! Cartellino miele per lui Il migliore è appena uscito dalla Chemio Ma questo è un par... stiamo elencando malattie come se fossero minchia sconti della standa Ma vai! Dai, dai Mona! Vai, putta la palla lì! No, vai, no! Nego, we made it! Cos'è, ti vai a fare un steghino per quanto devello il mio gol? Fammi una raggiata, madre! Aia! Scusa! Scusa! Cos'è quella mezza? Porco Dio! Dai, lancia tutto... Ma non danzare così! Non volevo che stiamo... Dai, insomma... Vabbè, vieni, dai! Dai, fai vedere che... Dai! Vabbè, ci sono problemi tecnici, raga! Tanto ci dorme il sacco, all'isù! Oh! Eh, oh, ascolta un po'! Ma dov'è che sei? Sto dalla statua, con la gigante! Ma come non mi vedi? Dai, sto vicino a... C'è tipo un bomber! Sembra l'uomo della Michelin! Scusa, puoi alzare la mano? Stiamo alzando la mano in due! L'uomo della Michelin! L'uomo della Michelin! No, eh? Oh, non mi vede! Dov'è che stai? Hai detto che sei davanti al Duomo! Oh! L'uomo della Michelin! Oh, vabbè! Oh, vabbè! Una foto! Codore di cioccolato! Oh! Oh! Fallissimo! No, vabbè! Il mio amore è per te! Yeah, 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 yeah! Sei bellissima! Ti volevo dedicare questa canzone! Quando mangi la brioche sei anche più bella! Siete tutte e quattro bellissime! Vai, vai! Lecca, lecca la cioccolata! Al volo! Ci riprova! No! È il culo! Dai, ma va con scuro! Ti sei meritato tutto il cacao che è dolore! Ma guarda quanto il cacao meravigliato che c'è! I'm in love with the ciocco, ciocco! Agare po' del lollo! I'm in love with the ciocco, ciocco! Cipolla! Porca puttana! Goal! Boom! 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 Eh? Cos'è? Il tuo French Toast non la lascia mai! 2, 1, vieni, entra! Sì, va via! Attenzione! Attenzione! È stato segnalato un incendio! Abbandonare immediatamente l'edificio! Oh! Ma perché mo? Mancano tutte le palle! Tua madre saprebbe fare meglio! Boom! Boom! Oh! Matto! Se voglio! Ragazzi, posso chiedere per la scala? Cioè, deve andare alla scala? Ok! No, di sotto c'è la biglietteria! Dunque, è sempre dritto qua? Mmhm! Arrivino alla fine della galleria e sestra? Grazie! Niente, può? Eh, se dovessi fare un video al giù No, di sotto c'è la fine! Tornate le pulizie e quattro c'è il progetto! Una camionata di gente canta sclandestina per pulire su a terra! N***a, we made it! Boom! Boom! Go! Cagli! Andiamo, andiamo a vedere se c'è qualcuno! Ragazzi! Ragazzi, scusate! Dovevo fare un trucco di magia! Scusami! Ce l'avresti per caso 5 euro da prestarmi? Grazie mille! Li vedete questi soldi? Guardate questi soldi! Questo è il trucco di magia! Sono i tuoi soldi! Guarda! Ma che bravo! È un trucco riuscito! Ma riuscito! E rifacciamo la che è venuta mai, non ho altri 5 euro! Facciamo finta, è un mega prank! È tutto reale! Ed ecco che vi trasformate 5 euro in 2 euro e 5 euro! Mi spiace ma è il tuo French Toast! Ragazzi! Ho perso! Ho perso nella vita! Spero che questo video... Cioè spero che sia ancora vivo dopo questo video! Vi saluto, vi ringrazio e lasciate 40.000 like se volete un altro game prank con qualcun altro! E niente, vi ricordo di scrivere un commento perché potreste essere scelti voi! E niente, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di Anima e vi lascio con il primo episodio! Poi, Edoardo, andare da un signore e dirgli, papà, finalmente ti ho trovato! Iniziando ad urlare e ad abbracciare! Dai, non si può fare un... no! Papà! Che cazzo? Papà!